A broken clock is right twice a day. Che cosa intende una persona che recita questo proverbio? Ciao, sono Monica di ImparaLingleseConMonica.com e nel breve video di oggi ti rivelerò il significato del proverbio in lingua inglese che ho scelto per te per questa settimana. A broken clock is right twice a day is said when an old clock stops working and it shows one specific time but doesn't move. So once in the day and once at night the clock is pointing to the correct time. In the same way even a person who is not very smart can sometimes be correct by accident. A broken clock is right twice a day significa quindi letteralmente che un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. In altre parole l'orologio non si muove ma per due volte al giorno, quindi una volta durante il giorno e una volta durante la notte, segna l'ora corretta. Allo stesso modo una persona che non è al 100% positiva potrebbe comunque comportarsi nella maniera corretta quasi per caso. Bene per oggi è tutto e ti aspetto alla prossima lezione con un nuovo English Saying of the Week e nel mente ti invito a commentare questo video dicendomi che cosa ne pensi a riguardo. A presto!